Mille giorni di te e di me In occasione del compleanno di Claudio Baglioni arriva al cinema il favoloso concerto alle terme di Caracalla Le più belle canzoni di sempre in un evento unico, finalmente sul grande schermo Tutti su, buon compleanno Claudio Dal 15 maggio, solo al cinema Grazie a tutti